Musica Ciao a tutti ragazzi sono SilverDX In questo nuovo video sono qui a giocare a Dragon Ball Xenoverse E oddio c'è Gigno che cosa vuole? Una quest secondare che non ho fatto mamma mia Ma noi andiamo a fare la storia, la modalità storia Però vediamo un po' le abilità, no Andiamo ad attributi Ecco come potete vedere sto nel cazzo in culo proprio Cioè sto nella merda E devo migliorare un po' tutto Devo cercare di equilibrare tutto Adesso sicuramente perderemo Perché dobbiamo fare qualcosa di veramente importante Non so cosa Allora eravamo rimasti che Freezer era stato Battuto tra virgolette con la sfera Genchi Con la sfera d'energia Allora vuoi riprendere in carica fattore temporale? Sì, fai attenzione Ora deve essere successo qualcosa Ma non so cosa Qualcosa di veramente brutto Vediamo un po' Perché Freezer dovrebbe risvegliarsi Però non spoileriamo Se qualcuno non sa la storia di Dragon Ball Ah finalmente ce l'abbiamo fatto Quanto è bello Tutto in slow motion Quanto è bello, sì E io stavo qua già Tutto squashato Con il vestito tutto cambiato così Oddio Ecco E perché che m'ha preso? Chi è che m'ha bloccato? Aspetta Oddio Madonna La pelle di duca Ah ecco Minchia E' cambiata la storia però Lui stava sul masso Stava ma vabbè Mamma mia Oddio No Non lo fare Non lo fare No Oddio mio Oddio mio Voi veramente Diva incazzare Ah pure lui Laura Malvagia C'è attorno Che cazzo è Oddio Madonna Spacca i culi Spacca i culi Basta Spacca i culi Questo Questo si che spacca i culi Per me ci sto tutto ammazzato Aiutatemi Finalmente Super Saiyan Furioso Ridicisce la parola Ah sono Goku Eh minchia eh Oddio Minchia No che cazzo Uccide Ah l'ho difeso io Eh sì Perché la storia Non doveva andare così In pratica Ah ecco io non sono Goku Ma voglio diventare anche io Super Saiyan Bastardo Anche comunque Vi volevo far vedere Una nuova abilità Non posso diventare Super Saiyan Però Nulla mi vieta Di diventare Kaioken Quindi Vai Spacchiamo il culo Da Kaioken Vai Gohan prendi piccolo E tornate alla te Sì Vero Questo è Sto nella storia Però No mentre Combattevano Oddio Non sto capendo niente Ma perdo sicuramente Adesso perdo Bastardo Dai Goku Sei Super Saiyan Sei incazzato Dai Lo puoi fare male Lo puoi fare tanto male Io in Kaioken Che non Non duro un cazzo Non durò un cazzo Devo ricaricarmi No bastardo Bastardo Non l'ho visto Proprio Goku aiuto Goku non ci tieni a me Oddio Sono un Super Saiyan Dei uso della terra Giunto qui per sconfiggerti Ah si che l'ha chiesto Chi sei tu Madò Bellissimo Bellissimo Ragazzi Bellissimo No ma c'ho C'ho poca vita No non mi ha fatto diventare Kaioken Bastardo Me la pagherai Non mi hai fatto diventare Kaioken No perché ho perso tutta l'energia Per diventare Kaioken Minchia ma dura poco il Kaioken No non la posso utilizzare Cioè perdo tutta l'energia Guarda Non è ancora per me Devo aumentare Con la barra là sotto Dovrebbe essere la barra del vigore Mi pare Cioè non lo so No scusa Goku Scusa scusa Ecco lo ripago io Ecco bravo Oh l'abbiamo distrutto quasi Sì ma ora il pianeta dovrebbe star per esplodere Ah non adesso ancora È vero Bastardo 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 no Minchia Mira musichetta sotto Vi devo far ascoltare Che è troppo epica No si fa finire proprio la rabbi Dici bastardo E' rotto il cazzo Proprio non muori Dai Dai che le spacchiamo il culo Dai Tutto ancora incazzato sta quello Che cosa vuoi Ma cosa vuoi Ma ritirati Ritirati Maledizione Ritirati Oh no 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 Che succede Nooo Che palle Ah ha riaperto l'occhio Concludi Questo era tutto Teoricamente Io vorrei andare avanti Però ho paura Cioè non lo so Perché qua Succede qualche cosa Sicuro Succede qualche cosa Tipo che io muoio Dovrei migliorare Un pochetto Non so Pur salito di livello Cioè Vediamo un po' Dai Battaglia finale Massima potenza Esaurisce la salute di Freezer Ha rotto il cazzo Ha rotto eh Mamma mia No che diventa tutto 100% full power Così No non è questa la tua eraforma La tua eraforma è quella dorata Però va bene Non siamo ancora arrivati lì Oh Dio Ah 5 minuti Bastano per sconfiggere Te fuggire Tutto sicuro di sé Ma è vero eh Cioè Ma tu vuoi mettere Ormai l'aveva distrutta Freezer Non serve a un cazzo Freezer Comunque dai Giusto perché voglio contribuire Kaioken Mamma mia Vero consumo un casino di energia Vedi Per dare lo scatto così Consumo un casino No Bastardo Non vedo un ca Dai non mi fa consumare tutto il Kaioken a minchia Dai Una volta che c'è la possibilità di distruggerti Ma tutto rosso Non capisco niente Poi io che ho messo il vestitino rosso adesso Mi trovo in momenti pure io No non posso scappare e andare avanti Devo ricaricarmi Bastardo Che peccato però consumo un casino di energia E poi il Kaioken base Perché io ho cercato di sbloccare Per tre o per venti No il Kaioken più potente Ma non lo sblocca Cioè Non ho troppo Perché è difficile Cazzo dai Ho sblocato Tanta Tutta No scusa scusa Vabbè È cercato di ripagare Però Dai Mamma mia Sono troppo forti questi eh Mamma mia Sono troppo forti È uno eh È troppo forte questo Però sono troppo forti questo Lo sta dicendo Freezer Però Freezer è un tipo molto orgoglioso Imperatore dell'universo E bla 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 Sì ma non capisco un cazzo Poi io ci ho messo il vestitino rosso Prova adesso Devo Dove Devo pensarci Che tipo sarebbe finita così Oh Dai Bastardo Pezzo di merda Mori No no che mi sto bruciando nella lava Goku però cerca di fargli male Cioè Non è che lo devo prendere solo io a questo Oh Bellissimo Garlic Cannon e Super Kamehameha Bellissimo No Aia 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 Kamehameha Bellissimo Ehi la lava sta qua Gli occhi La botta di Kamehameha andiamo No No Madonna sei uno stronzo Sei uno stronzo Vieni qua Vieni qua Fatti fare male Vieni qua No Bastardo Vieni qua Goku che cazzo fai Vieni Aiuto Mi hai lasciato con Freezer Ti ricordo che lui È più forte di noi Cioè Insomma Più forte di me Super Kamehameha Stava caricare tanto Cioè Allora io voglio tipo usare Capsule Energia M Che è quella più potente Dovrebbe essere Media Cioè Eh si che stavo per morire Kaioken Vai L'ho preso L'ho preso Dai Eh Vai Col Kaioken Ragazzi Figo proprio Fiero guarda È finito Con la spada di Yamcha Ok Dovrebbe essere finito No No Ancora no Beh Dovrebbe essere qualche video finale Cioè Non posso ancora combattere È finito qua Addio Addio Vai Parte più bella Che succede Un po' lunga Kaio Ho usato Le sfere del drago Ah per farli Suscitare tutti Sì sì È vero Non so molto di te Ma mi hai davvero aiutato Ma sarò io a chiudere Ah si ricordo Savarte Ci sono una dimenticanza Cioè Me ne ho mai Sto ricordando Però mo sì Adesso sì Oddio che succede Grazie Ah era Rivolto verso di me Ah Ok Vai Battaglia finale Sì ma la voglio giocare io però Che palle Dai No è finito così Ma io volevo farla La battaglia finale È troppo bella È tipico di Goku Di fiotare ogni aiuto Eh no E dai E uffa E ma dai Mi toglie tutte le bicità Così Mi va tutto bene Goku ha vinto La pergamina è tornata normale Eh no Dai Comunque sono felice Che Mira non abbia interferito Vai Ah quei due Mira e Toa Quanto è brutto Trance Che animazioni di merda Un loro capriccio Sì Spero di sì Comunque Due siete stati in gamba In gamba In braccio No in braccio no No Eh dai Ma che palle Le bicità mi hai tolto Ah sta pensando Cazzo Tant'è brutto Perché gli occhi storti C'è Troppo rapide per lui Ce ne sono altri Bastardi Eh sì adesso comunque Oddio Cazzo è questo Che cazzo è oddio Pure questo c'ha Gli orecchini della Potara 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 Cioè tutti i Kaioshin sono Oddio Questo fatto che sono tutti i Kaioshin Madonna che fastidio Questi orecchini di merda Ma dove vengono venduti Li voglio anch'io Eh io potrei continuare La modalità storia Elenco il giocatore di cosa Potrei continuare La modalità storia Miglioriamo attributi Vediamo un po' Il vigore Miglioriamo Eh sì dai Pure gli attacchi di base Eh super colpi Dell'Aura Ce l'ho a tre Allora ragazzi Io non saprei che fare adesso Quando Come ho detto Io ho le missioni secondarie A me le missioni secondarie Non piacciono Ma siccome siamo qui Nel video Le dobbiamo fare Ragazzi io non saprei che fare Questo è il video È durato fuco Non me l'aspettavo Per questo video è tutto Grazie per la visualizzazione E spero che il video vi sia piaciuto E ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Aspettiamo che esco Ecco qua Ciao 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 ciao